L'immagine più significativa dopo 53 giorni di sciopero è quella della lunga fila dei lavoratori che rientrano nello stabilimento per ridare avvio alle attività di produzione. L'accordo tra Tales e sindacati si è concluso con la certezza della continuità lavorativa e la stabilità economica dei suoi dipendenti. I protagonisti in questo scenario sono da un lato i lavoratori, dall'altro il governo nazionale, quello regionale e poi ci sono tre società, la Tecne, la Tales e la Sapura. Qual è il ruolo di tutti questi all'interno di quello che si è sottoscritto nella scorsa settimana? Il ruolo di tutti è di assoluta garanzia, chiaramente ognuno fa la sua parte, il governo sarà garante assoluto di tutta la discussione che comunque dovrà continuare a svolgersi nel corso dei prossimi giorni tra noi e l'azienda e tra le tre aziende. Però tutti si impegnano a salvaguardare i livelli occupazionali di questo sito produttivo. La Tecne è la società che si è fatta avanti per salvare il destino dei lavoratori. In questo caso ai lavoratori è stata data una forchetta di scelta. Cosa potranno scegliere? Allora innanzitutto i lavoratori nel limite del possibile potranno decidere se stare in Star 1000, quindi in progetto Sapura oppure in Tales. Coloro che resteranno in Tales potranno decidere a loro volta se restare nel gruppo e quindi trasferirsi presso altre sedi oppure se stare in Tecne, azienda che si è impegnata a garantire il mantenimento di tutti i posti di lavoro. In questo caso avete chiesto, forti di questa esperienza, anche una garanzia a tre anni. Abbiamo chiesto a Tales di garantire, per quanto riguarda il progetto Star 1000, un periodo minimo e l'abbiamo fatto su due punti. Il primo è che Tales si impegna a riassorbire tutte le persone coinvolte in quell'esperienza lì qualora dovesse esserci un default industriale. Dall'altra parte abbiamo chiesto a Star 1000 di garantire un periodo minimo di sopravvivenza nel territorio che adesso andremo a definire io penso sia di 6-7 anni. Quindi diciamo tutte le garanzie necessarie affinché le persone possano sentirsi tranquille. Indifferentemente dalla scelta tutti avranno un incentivo, un bonus economico? Sì, ci saranno dei bonus chiaramente differenziati in base ai livelli di rischio, però tutti avranno un riconoscimento economico per l'avvio di queste nuove esperienze. Quanto tempo c'è per la scelta definitiva dei lavoratori? Entro fine maggio si concluderà la prima fase e quindi entro fine maggio bisognerà decidere.